Non smettiamo di cantarla, dobbiamo continuare a cantarla sempre più forte. Viva il 25 aprile, viva la resistenza, viva la libertà! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! 36 casacchi, con il console che ha contributo per la costruzione del monumento, dove abbiamo dato contributo. Ecco qui, qui c'è stata la fine della guerra per la nostra provincia, per la nostra regione, è stata il 3 maggio. Invece la battaglia è incominciata il 29 aprile, qui a Opicino, fino al 3 maggio. Loro, i caduti, sono caduti il 2 maggio, qualcuno forse nella notte tra il 2 e il 3 maggio. Qui c'erano tutte le postazioni tedesche, che si vedono ancora, e loro sono andati in prima linea. Erano diversi, casacchi, azerbaijani, russi. 29 sono caduti, i compagni li hanno poi sepolti qui e sono rimasti qui fino al 1962. Noi avremmo voluto allora che rimanessero qui, però non è stato possibile perché i paesi, sia l'Italia che l'Unione Sovietica, allora si sono messi d'accordo di fare, di traslare tutti i caduti e il cimitero. E da allora andiamo anche noi in cimitero. Però desideriamo che qui rimanga un ricordo e perciò i giovani si sono messi a lavorare, hanno pulito nuovamente tutto e cercheremo di mettere anche una piccola... e che ricordi anche per la gente che arriva, che deve vedere l'oro. Se posso ancora sottolineare, perché ci hanno raccontato altri combattenti gloveni che combattevano con l'oro, che venuti il 29 qui da Morupino, in questo sito, hanno detto noi saremo noi ad andare i primi all'attacco. E veramente è stato il partigiano che mi ha raccontato, mi ha detto veramente un coraggio proprio da sottolineare. Hanno detto noi siamo stati addestrati a questo lavoro, anche dai tedeschi, come prigionieri. E abbiamo aspettato il momento di poter aiutare il proprio popolo, il vostro e tutti gli altri. Perciò nel nostro ricordo rimangono veramente memorabili. Grazie, grazie mille. Se permettete da tutti noi, da tutti noi presenti... Grazie a tutti.